Grazie, le prime impressioni sono positive, benissimo in tutti i sensi, sia con i compagni, con il mister, con la società, con la città, quindi sono felice. Adesso c'è subito una partita importante per la Feral Pissalò, tu arrivi forse in uno dei momenti più attesi, c'è domenica il derby con Lumezzania, come stai fisicamente e sei pronto già per giocare questa importante partita? Sì, fisicamente è bene, mi sono sempre allenato, anche se magari giocando di meno perdi un po' di condizione sul campo, però quello poi vedrà il mister e io sono prontissimo per questo derby. Tanta voglia di giocare dopo una parentesi magari non fortunatissima alla Ternana, adesso c'è voglia di riscatto per te? Sì, per un giocatore è sempre brutto non giocare, quindi ho voglia di entrare in campo, di dimostrare quello che sono.